Non solo è abbandonata a se stessa, ma è diventata anche un riparo occasionale per tossicodipendenti e senza tetto, oltre che un luogo di ritrovo per ladri che vengono e controllano il bottino ricavato dai loro furti e abbandonano quello che non serve. Stiamo parlando della rimessa comunale dalle porte del borgo antico di Rende presso l'erione Calabria, una struttura di proprietà del comune ormai abbandonata dove si può accedere liberamente e dentro si può trovare di tutto. I due padiglioni sono ormai occupati da rifiuti di ogni genere e l'erba alta intorno è indicativa di come ormai i due edifici non vengono più utilizzati da anni. La rete di recinzione è stata divelta ed ognuno è libero di entrare ed uscire, tant'è che ormai sono diventati anche una vera e propria discarica. Ma c'è di più, la copertura dei due edifici è completamente ineternit, materiale come ormai risaputo cancerogeno che veniva utilizzato per la copertura di fabbricati nei lontani anni 60 e che oggi viene rimosso perché le polveri che rilascia sono cause di tumori. Insomma, un problema con il quale le circa 10 famiglie del quartiere sono costrette a conviverci da ormai troppo tempo è che nonostante le numerose segnalazioni effettuate all'amministrazione comunale, fino ad oggi non è stato avviato nessun procedimento di bonifica.